Dopo la nomina del Presidente della Giunta Camerale, la Camera di Commercio di Arezzo e Siena, che ha la sua sede legale nella città di Arezzo, comincia a muovere i suoi primi passi dal punto di vista istituzionale. Senta, i primi passi li stiamo muovendo proprio in questi giorni. In questi giorni approveremo il bilancio per l'esercizio del 2019. Come abbiamo detto più volte, questo percorso è stato disposto da una legge dello Stato che ha ridotto i finanziamenti e imposto l'accorpamento delle strutture. Devo dire che questo percorso ha trovato fra le 43 categorie economiche, arettine e senesi, degli artigiani, dei commercianti, degli industriali, di tutti i settori economici, un'ampia convergenza e fra le categorie economiche un clima piuttosto costruttivo. La sede legale, come saprete, è rimasta su Arezzo. Nel declinare questa legge abbiamo preferito mantenere in ogni realtà gli uffici, i servizi, in maniera che non vi fosse alcun disservizio da parte dell'utenza. Quindi i dipendenti continuano e continueranno a dare i propri servizi sui territori di riferimento. Ovviamente per non creare alcun dissidio, alcuna non funzionalità, nei confronti dell'impresa che rimane comunque al centro di quella che è la nostra attività.